Allora, Nico, se mi vedi, puoi venire a rendere più flasso Ci arrivo un attimo, aspetta Ma prendi tipo quella roba lì gigante Non quello! Cosa c'è? Così? Lì? Dietro? Dietro di te? Quelle, al centro Lì? Lì, quello centrale Questo Eeeh Benvenuti in questo nuovo di Fortnite Torniamo con un bel propante Nello specifico, ambientato dentro l'IKEA E ci siamo già nascosti perché Fer ha startato il match Ma non avevo capito A prende e clicca i tasti Allora, hai avviato tu la lobby E c'era il tasto inizio Pensavo fosse una sorta di mio ready E quindi l'ho premuto ma non pensavo BING! Non ho pensato Passasse a me la leadership Mannaggia te Ricordatevi di alzare il volume degli scorsi Ogni 15 secondi Ah, ma io basta che trovo gli alieni Buongiorno Ah, ragazzi, tranquilli tanto non vi cerco Prima prendo gli alieni così vinco Cosa è successo? No, ma alcuni sono per le Fer, se premi il tasto destro Ti togli la trasformazione Eh, l'ho premuto per sbaglio Ho sbattuto Fer è morta Mi sa che ti ha visto Ti ha visto Fer Cioè, ero di fronte a lui Non so com'è Abbia fatta non vedermi Comunque dice di collezionare 10 alieni Ma secondo me Marci È un obiettivo extra Non è Penso anch'io Marci sta sparando qualsiasi cosa esiste Marci, guarda che prendi danno No, mi sa di no È quello il problema No, no, è finito Per quello sto sparando Eh, come facciamo a sopravvivere per 8 minuti in queste condizioni? Penso che non sento i ping Non sento Come vai? C'è quello che urla È strano che non li senti Come va? Non li senti Non li sento Marci Se veramente, guarda Non posso dirlo Raccontami di più Cioè, ma proprio Io vorrei sapere Proprio in questo momento Capire cosa stavi pensando Perché mi interessa la tua opinione Ti volevo insultare in realtà Guarda, proprio Detto francamente Noi, prova ad andare a vedere i vari mobili Nico, non è una bella idea Ma io sono Oddio Eh, però Quanti rinni vidi che ho preso? Occhio, Nico Io comunque non sento niente Vedo niente No, ma sai perché c'è il bordo Oh, 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 oh Hai sentito? Oh, 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 oh Ho anche delle paperelle La Oddio, Stefano Mi piace che Oddio Cosa ti piace? Io sto andando anche io No, non ho una buona idea Mi piace, Stef? No, Stef Stef Questo Tento No Non farvi scoprire, Stef E dai C'è pure l'allarme Vabbè, buongiorno Buong Aiuto Io, boh, veramente Non capisco Ah, fammi uscire a sto posto C'era presente un complotto contro di me Mi sono dimenticato di farmi l'insulina quando ho pranzato E quindi ha suonato l'allarme mentre Marci mi ammazzava Quindi Marci ha ammazzato una persona malata Come ti senti a riguardo a Marci? Mi stai facendo passare un po' per uno strombo comunque No, boh, cioè, complimenti Pur di vincere Stef, che spari le macchine? Stai tranquillo che tra un po' lo scopro che sparo Cosa avete mangiato a pranzo? Popcorn I noodle Erano buonissimi Ah, Nico è qua sopra Quindi una è qua Se ti vuoi muovere Questo è il momento Aiuto, ho fatto buona Stef, io sono fuori e sento il ping qua fuori Io ho già lato E qua Secondo me c'è Nico Che ci viene da mani, Stef? Ma è qui c'è Nico Secondo me La La Anche se l'ho messo la Un pochino più in sua destra Va là dove? È là Eh, da qualche parte Si gode Si gode Raga, Fede è qui da me Questo è quello che pensi Magari sono fuori È qua, è qua È qui dentro Sì Oh, ve ne andate Andatevene Siete terribili Ma io non ho sentito niente Sì, è qua No, non vorrei Non vorrei che sia Andiamo Raga, non vorrei una cosa Che sia fuori Secondo me State guardando nel punto sbagliato Poi Fate come volete Raga, abbiamo solo due minuti Non penso di resistere un altro minuto e 40 Però comunque è molto esilarante la situazione Ma non è È assurdo Oh, ragazzi L'accidente di bicchiere nella scrivania Avete colpito tutti gli oggetti attorno Meno che quello È da comunque considerarsi una vittoria Guarda A chi tocca? Basta che non so di nuovo io No, di nuovo io raga Tocca a Marci No, davvero È scriptato allora No, basta E faccia Rifacciamo Dai, ma scusa No, no, tranquillo È divertente, divertente Ok 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 8 minuti Dunque sono davvero tanti Porca miseria, sì Però stavolta non li prendo gli alieni, raga Eh Tanto sono inutili Ma fatti che te frega Sarà per fare esperienza Ma no Vabbè, dai, così può andar bene Ma ci ho trovato Ti ho trovato, Loco? Sì, mi hai già trovato Sono qua, davanti a te Sparami Ahia Effettivamente prima ti ho visto Dai, che ho urlato Ma quindi ti ha visto, Loco? Prima lui è uscito direttamente fuori L'ho visto che passava Sarà già no, non è vero Ma davvero? No Cioè io sono qua, fermo da mezz'ora Poooo A me è il Dragon Ball Qualcuno qua Perderà tre anni e mezzo di vita Poooo Stai comunque 5 secondi Non lo fai in anticipo Cioè Poooo Stai scappando Ho dei problemi Ma dov'è? Cioè io vedo che si muove Io vedo che si muove Aiutatemi Che stai combinando? È indovina Questo è matto È matto a meccato È una, due minuti e mezzo È molto bella la mappa Però secondo me Un picco tutto bene A te, come va? Tutto bene E tu invece, i tuoi gatti? Bene, bene Ancora vivi No Ma Madonna mia ragazzi Che disaglio sta partita Mamma mia Vai tranquilla Marci Che lì Ma io vorrei nascondermi Vorrei Vorrei nascondermi Eh non puoi Mi dispiace Non puoi La polpettina? E polpettina dell'Ikea Sì Sì, buone quelle Allora, mi dispiace perché ho trovato Purtroppo sta per Per ira Mi piace trovato? Stai sparando a nessuno Stef Infatti Ma chi ha trovato? Stai sparando da solo Stai sparando a nulla Sì, sì Non c'è nessuno Questo è bello Trovato Anch'io ne ho uno qua Stef È qui Secondo me Non l'avete capito Aiuto È stato preso È stato preso E due Bene Vabbè Chi sta per fare una brutta fine? Credo Nico No, no Io sto tranquillo Sono proprio sdraiato Sì, sì Me la cillo proprio E sono pure vicini Due scemi, eh Questo è quello che pensi Ma che dici? Io non vedo Fere Ma neanch'io vedo Nico Infatti te lo sta inventando Guarda È che sentite male Perché avete l'audio Tutto storto Sì, sì Sì, sì Perché Ok No era Nico quello No, ero io Ma che era Nico? Ti ho detto che io Nico Non siamo vicini Ah, sei tu anonimo Raga, 3 su 3 È un anonimo Perché sono anonimo Non coprovi neanche il ping Se dovrò venire a trovare Il ping ci dice qua Boh Non saprei Raga, io Non snitcherò Sai dove sono Perché ho visto dove si è andato Ho capito È là sopra E sulle cose E quindi Non cercherò Per lasciare una partita equa Comunque Comunque Tre persone Che ti cercano Sono più che sufficienti Non lo prendiamo da lì Ma con chi stai parlando Loco Non capisco Cosa ti stai riferendo Fermi un attimo Raga Bisogna capire il ping Dov'è No ma quello non è quel coso Eh sì Bravo Stef Ping Ping Dov'è Cos'è salito lì sopra Ci sono gli alieni da prendere Raga c'è una papera che corre Dov'è Solo banana Ping Ping Pong È saltato Ping Ping Pong Era una papera È diventato un cecchino Stef Hai capito adesso Belli questi E si gode Del ping Dovevi nasconderlo Non voglio più farei Io il nascondere Voglio nascondermi Il ping era troppo Inizio Lo trovo di 33 E ci sono Quello che ho punti Marci Comunque non è bravo Se lui di nuovo È scriptato No io quitto Io quitto Ve lo dico No sì Finalmente È pere Sì sì Aia Sì è finita raga Vincete Io non so cosa voglio essere Cioè oggi mi sento più Un rinoceronte O un canguro No non No Io Non lo so Perché come è un pirla e basta Oggi mi sono svegliato E non so bene ancora Cosa penso di essere Una carrucola Io ho un problema Anch'io Sono trasformato Di nuovo Ok E qual è il problema Ad essere trasformato Secondo Stef Non c'è volta Dov'è scusa Ragazzi siete zitti Che c'ho feo davanti a me Non è vero Sono bugiardo Dicevo No è vero Stef no Stef non muoverti No Stef no Stef no Stef ti si vede attraverso il muro Allora Nico se mi vedi Puoi venire a rendere Più flaccigio Ci arrivo un attimo Aspetta Eh però Non sono molto Cambia Non ho la fisica Che lo permette Non sa di no Non fa Ah così aspetta Sai che non funzionerà mai Non funzionerà mai Ma prendi tipo Quella roba lì gigante Lì sotto Alla destra Guarda Guarda Comunque è difficilissimo Che è tantissimo L'hai capito? Non quello Cosa Più alla destra Però se lo dico Un casino Hai detto tu a destra E ma ancora di più Vai avanti Questo ti piace? Ma ragazzi non vedo niente No 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 Allora vai avanti Camina Così Lì Dietro Dietro di te Quelle Quella al centro Stesso Clicca F No Nico Aspetta Lì sotto Lì sotto Dietro di te sotto Sotto Nel posto sotto Sotto Lì Lì Quello centrale Questo Eh Ah 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 Prima o poi li dovevo trovare Allora Che facevano gli scemi Allora Steph deve cliccare la F In questo momento No guarda non c'è bisogno Non ti potrò prendere però Steph No no ma non hai capito È bellissimo Steph No figliati Fai sala Maleko Voglio vedere quanto Eri tutto lo scaffale Ah 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 Io stavo Stavo puntando gli orsacchiotti Non pensavo che fossi tutto Allo scappale T'ho detto che l'orsacchiotto era buono Ok Ferro io sono vicino a te Ma tu senti che ti faccio tipo Le cose strane No Ma è certe che hai detto così Ma io tengo Fortnite con dei volumi molto bassi Ma siete tutti fuori Ma oggi si è svegliato strano No raga ve lo giuro Che se clicco F è tutto strano C'è un Towns Che cos'è Nico Vieni vicino a me Fidati No no Sta vivendo in un altro video Meglio star lontani Ma cos'è Ma ora l'ho sentito C'è un sale Maleko Cos'è succede? L'hai sentito? Io ve l'ho detto Fa ridere Non mi cagate Ma stai cantando la canzone? Sì Ma devi sentire Lo senti? Ma c'è la canzone Come lo senti? Ma perché c'è la musica Perché se schiacci F Ti fa far sta roba Io te l'ho detto Ma le sentite Tanto sono una roba Di un secondo Sound muted Sound muted Io non lo sento minimamente Ma ti muta Ti muta Ma fai i Towns Loco dai Che sono divertenti No no L'ultimo minuto Ma che cosa vuoi dire? È divertente Dai Ha ragione L'ultimo minuto Ci sta Va bene Ragazzi Come è fuori Perché non si sente mai In questo momento Sono un gatto Vi avviso Sono un gatto Questi sono gatti Però non i gatti giusti Evidentemente Io non lo sento mai Io non ho più Un cosa del ping Il timer A me scompare Ricompare Forse fuori Non c'è il ping Che senso ha Non siete mai stati In questa zona È una zona Che nessuno Ha mai scoperto Una zona segreta Ragazzi Per quello che non lo sentiamo Sicuro Dovete attraversare un muro Per entrarci Come faccio attraversare un muro? Eh c'è un muro diverso Ma ricerca Che manca mano di un minuto Va bene Cosa volete? La F Salamalecu Salamalecu Ah si può anche scegliere Non l'avamo capito quello Ma non si sentirà mai Salamalecu Sto facendo tu insieme Non sento niente Vedi che non si sente Qua c'è un muro diverso Dove c'è un allievo? Venite Ma dove è finito? Come sai Inizia ad entrarci Perché io sono Aiuto Aiuto Che è un sacco di roba Però non Non vedremo mai Ma qui c'è la zona È nascosta Salamalecu 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 Bravissimo Dov'era? Figo sto posto Dov'era? L'ho vista all'ultimo secondo Io sono arrivato lì prima Ma non ho sentito niente No io non l'ho sentito Da nessuna parte Quella è la cosa assurda Vabbè Oh essere giocata bene Bravo Ci fermiamo Spero sia stato divertente Ciao Marci è già andato Chissà se c'è altri passaggi segreti A sto punto Mi viene il dubbio Ho fatto schifo a nascondermi Ciao Ciao